Luigi dove siamo? Credo che siamo nel canale di Carmine creato apposta per chi vuole imparare l'italiano. Che? Che vuoi dire? Dai Paolo ti devo sempre ripetere le cose due volte è un canale per chi vuole imparare l'italiano. E chi è così stupido da voler imparare l'italiano? No ma che dici? Scusatelo a volte dice tante sciocchezze. Non dico sciocchezze. Sto solo dicendo che imparare una lingua è noioso. Bisogna memorizzare tutte quelle parole e poi c'è la grammatica. Non ho tempo per queste cose io. Ho cose più importanti da fare. Sì le conosciamo le tue cose importanti e comunque una lingua non si impara come dici tu. Ci sono metodi molto più semplici, divertenti e soprattutto efficaci che stare lì a studiare, a cercare di memorizzare, a disperarti che poi finisci per odiarla quella lingua. E questo non lo dico io. Lo dice la scienza. E tu credi nella scienza? No eh? Se metti in dubbio la scienza mi alzo e me ne vado. Stai qua dove vai? Scherzavo. E quali sarebbero questi metodi divertenti ed efficaci? Dunque si chiama approccio naturale teorizzato da un importante linguista americano Stephen Krashen. Ok ok in parole povere devi assorbire la lingua come una spugna senza sforzarti troppo. Ascoltare, 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 ascoltare. Ecco già questo video qui ha dei sottotitoli. Vedi? Dove? Ah sì! Ecco quando riusciamo a capire cosa stiamo ascoltando, poi basta riguardare un video, ascoltare un dialogo o cose del genere tante volte e automaticamente il nostro cervello impara e non ce ne accorgiamo neanche. Furbo quel nostro cervello eh? Il mio forse non il tuo. Cosa? Eh? No no niente niente. Dicevo appunto che su questo canale c'è tanto materiale di questo tipo. Video con sottotitoli da guardare e riguardare perché più ascolti qualcuno che parla italiano più facilmente poi riesci anche tu ad esprimerti in italiano. Poi c'è la serie impara l'italiano cantando così puoi imparare divertendoti mentre canti la tua canzone preferita. Poi c'è il podcast che tratta di tanti argomenti diversi spesso anche di cultura e tradizioni italiane così puoi conoscere meglio l'Italia e gli italiani. E poi sul sito di Carmine che Carmine ha un sito? Sì dicevo che sul sito di Carmine italianglot.com ci sono anche le trascrizioni degli episodi del podcast con liste di vocaboli, test di comprensione, esercizi. Ma non sarà troppo complicato ascoltare uno che blatera su tutti questi argomenti noiosi, volevo dire complessi? A parte che non sono argomenti complessi ma poi ci sono episodi per diversi livelli. Ci sono episodi più semplici ed episodi per livelli più avanzati e comunque per chi ha cominciato da poco a imparare l'italiano c'è anche la serie storie semplici per principianti. Cioè sono le avventure animate di Arturo e il suo gatto Macchia. Figo! Adoro i gatti! Sì e anche di queste storie su italianglot.com puoi trovare la trascrizione, le liste di vocaboli e tanti esercizi. Oh però! Ma se sto cominciando da zero come faccio a capire tutte queste cose? Beh ci sono dei corsi interattivi online che ti permettono prima di familiarizzare con la lingua, di gettare le basi prima di cominciare ad ascoltare, 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 guardare, guardare, guardare e poi anche nel corso ci sono tanti dialoghi, testi da leggere, esercizi divertenti. Non è che devi stare lì a studiare, a sforzarti di memorizzare e quindi ad annoiarti. Ah no? No! L'ha spiegato proprio Carmine in una guida sui tre semplici passi da seguire per imparare l'italiano in modo facile e senza sforzo. E poi questa guida la puoi scaricare gratuitamente dal suo sito. Certo le ha pensate proprio tutte, si dà da fare il ragazzo. Di certo non sta senza fare nulla dalla mattina alla sera come fai tu. Ed è per questo che Carmine è anche su patreon.com. Patr che? Patreon.com. Per riuscire a produrre tutto questo materiale, Carmine ha bisogno del supporto dei suoi studenti e allora chi vuole sostenerlo e aiutarlo a portare avanti questo progetto può farlo con una piccola cifra al mese e in cambio avrà tante, 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 tante risorse per diventare bravissimo in italiano. Cioè? Ma te l'ho detto! Avrà l'accesso a tutti i corsi online, per tutti i livelli, a tutte le trascrizioni degli episodi del podcast, dei video, delle storie semplici per principianti, spiegazioni sui vocaboli, esercizi. Comunque è tutto spiegato sulla pagina membership su italianglot.com. Ok ok ho capito, ho una domanda però. Ma chi è sto Carmine? Iscrivetevi al canale!